La notte di lavoro non stop per i vigili del fuoco è iniziata alle 23. Una squadra del distaccamento di Gallipoli è intervenuta a Casarano all'interno dell'area parcheggio della concessionaria TR Car SRL per l'incendio di una lancia Ypsilon. L'irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche una seconda vettura, una Peugeot 308 parcheggiata nelle immediate vicinanze e anche parte di una copertura in PVC. L'opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone o cose, non sembrano esserci dubbi sulla natura dell'incendio che appare doloso. Alle 3 del mattino poi una squadra dei vigili del fuoco sempre di Gallipoli è intervenuta nel comune di Ugento per l'incendio di un furgone Fiat adibito a fast food. Le fiamme hanno danneggiato anche il rimorchio dello stesso furgone. Da quanto constatato nell'immediatezza dei fatti l'incendio ha interessato totalmente il furgone e le cause sono in corso di accertamento per meglio verificare la natura del rogo. Contemporaneamente a Lecce una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta in via Pozzuolo nel rione Sampio per l'incendio di un'abitazione. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al piano rialzato di una palazzina in stato di abbandono. L'opera di spegnimento ha impedito che le fiamme coinvolgessero altri ambienti si indaga anche in questo caso sulle cause del rogo.